Tanta paura per i fan di Elisabetta Gregoraci. La conduttrice ha infatti annunciato di essere ricoverata in ospedale. E lo ha fatto con una foto di lei direttamente dalla struttura sanitaria, in cui ha inquadrato il suo braccio con tanto di flebo attaccata. E ha anche rivelato che non è la prima volta che è finita lì nell'ultimo periodo, anche se in precedenza non ne aveva parlato. Adesso Elisabetta Gregoraci ha riferito di essere ricoverata in ospedale e di dover fare qualcosa di importante per ristabilirsi. La showgirl 44enne non è stata affatto bene, quindi inevitabilmente ha dovuto chiedere aiuto ai medici. Sicuramente in privato, dato che ha postato un Instagram story, avrà ricevuto tantissimi messaggi di affetto. Elisabetta Gregoraci ricoverata in ospedale, come sta? Mentre si trovava sul lettino, Elisabetta Gregoraci ha svelato di essere ricoverata in ospedale dopo che il suo corpo le ha dato dei segnali non del tutto rassicuranti. L'ex moglie di Flavio Briatore ha scritto, e poi arriva un momento in cui il corpo ti chiede di fermarti. Ora tocca a me. Settimana scorsa sono stata ricoverata in ospedale, poi uscita, ora sono nuovamente qui. La Gregoraci ha però rassicurato tutti, rivelando di non avere qualcosa di serio, nulla di grave, non preoccupatevi, ma devo un attimino pensare a me. Voi mandatemi tanta energia positiva e pensatemi. VVB. Nonostante lei abbia preferito non scrivere l'origine del malessere, il sito gossip e tv ha ipotizzato che Elisabetta possa aver sofferto di un forte stress, che ha coinvolto il suo corpo e che ora la costretta al ricovero. Non resta che attendere ulteriori aggiornamenti da Elisabetta Gregoraci. La speranza di tutti è che possa essere dimessa dai medici il prima possibile per ritornare alla vita di tutti i giorni.